Signor Questore, l'estate è sempre un mese particolare in cui c'è una recrudescenza di furti e di raggiri. Qual è la situazione nella nostra provincia? Come Polizia di Stato siamo sempre vicino alle fasce deboli, quindi consideriamo tutti vittime del reato fasce deboli. Il periodo preso in considerazione dall'1 gennaio a tutto agosto dell'anno scorso, confrontando con lo stesso periodo di quest'anno c'è stata una diminuzione del 25%, il che significa che tutte le forze messe in campo, dalle volanti, dal reparto prevenzione crimine, anche dalle squadre nautiche che stanno sul litorale, hanno dato un effetto veramente positivo. Abbiamo tratto in arresto molte persone in flagranza di reato, ma quello credo che sia l'operazione più importante è quella fatta con l'arresto di 5 pregiudicati baresi, esperti in furti seriali. Sapete la tecnica qual'era? Di prendere le chiavi nella macchina e quindi poi estendere l'operazione all'interno delle abitazioni. Quindi questo modus operandi permetteva veramente di depredare completamente tutti i beni che c'erano negli appartamenti. Allora la prevenzione è sempre l'arma migliore, quindi i consigli che voi potete dare alla cittadinanza sono estremamente utili. Quali sono e quali si possono mettere in campo? Noi abbiamo sempre un vademecum per cercare di arginare questo fenomeno come consigli generali che diamo normalmente a tutti. E cioè prima di tutto non lasciare mai le chiavi nella serratura esterna dell'abitazione e quindi chiudere la porta all'interno. Poi un sistema di bloccaggio delle tapparelle e delle finestre in genere in modo da non poterle aprire dall'esterno. L'altro consiglio che diamo e su questo ci tengo molto è installare un sistema di allarme collegato al telefono cellulare ed è un sistema che costa anche relativamente poco. Non aprire la porta a sconosciuti o a sedicenti persone che rappresentano enti come può essere il gas, la luce, il telefono, le poste o altri servizi e in relazione a quell'operazione dei baresi non lasciare le chiavi dell'abitazione in macchina. Poi per qualsiasi altro motivo, dubbio che uno possa avere in merito a questa cosa, fare il classico numero 113, 112, 115, 118. Fra poco entrerà in funzione il 112, quindi anche molto più semplice fare il numero e chiedere consigli sulla situazione specifica.